L'ondata di maltempo ha creato diversi disagi in provincia, sono state segnalate frane, crolli e crollato anche un muretto a Teramo. Qual è la situazione? Allora sì, purtroppo questa situazione meteorologica ha creato problemi perché il nostro è un territorio fragile e quindi è evidente che succeda così. In particolare abbiamo avuto un fenomeno importante dovuto alla tracimazione del fronto che ci ha costretti a interrompere una parte della chilometrica all'incirca al chilometro 9 totalmente e a istituire un traffico a senso unico alternato. Poi abbiamo avuto molti smottamenti, abbiamo avuto anche lo smottamento dei bordi strade su varie provinciali, tutte le squadre sono state messe immediatamente al lavoro e la situazione ad oggi è normalizzata per quanto riguarda almeno la fruibilità delle strade. Poi è ovvio che ci sono interventi strutturali da dover porre in essere per eliminare le situazioni che si sono verificate, però la situazione generale è di riapertura e di riduzione di tutte le criticità che si sono verificate. Tra le criticità più importanti c'è il dissesto di Valle Castellana e poi altre zone in particolare? Valle Castellana c'è un dissesto idrogeologico nella zona di Basto per cui abbiamo dovuto chiudere il transito e ovviamente anche qui si tratterà di interventi che richiederanno tempistiche maggiori. Poi ci sono stati problemi nella zona di Atri, Montefino, Castilenti, Castiglione, Messerraimondo, la zona di Atri con la riattivazione di alcune problematiche dei calanchi.